ecco mi pare fossimo arrivati qua nel raccontare questo super mega librone del tutto un po questo questo bello che avevo anche indicato presente in rete e quindi non vi sto facendo vedere una cosa che nessuno potrà mai prendere si trova si trovava almeno due giorni fa qualche giorno fa si trovava in offerta usato un buon usato a 18 euro io lo appagai 65 mila lire nel 96 così a un po di anni questo allora che cosa sono i ricami a fili contati viene spiegato benissimo quali supporti utilizzare diciamo che questi non sono ricami a fili contati anche se le brave brave magari ci riescono pure a realizzare un minutissimo punto croce ma serve una una base dalle trame trame d'ordetti piuttosto regolari ma che sulle regolari come la tele mien o vari tipi di canovacci delle tele di questo genere ecco su questa in canapa realizzai un tappeto a punto croce con lana sarta con stoppini sardi alcuni di quelli tanti ma si possono realizzare tante cose con i ricami a fili contati i materiali sono svariati delle belle lane cicciottose dal tappeto come queste e possiamo realizzare tappeti piani anche a mezzo punto vedete vari punti vari motivi e tappeti a bello con lago o con quel bello uncinetone strano che ho in giro per casa poi magari un giorno lo prenderemo che non ho mai usato come si comincia un lavoro come lo si termina come si rifiniscono come si muovono i fili come si riproducono i disegni quali 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 possono essere le ispirazioni anche delle belle cerate il mezzo punto guardate un po come è bella questa cosa qua io quanto la vorrei ecco esempi di motivi di intrecci di incroci insomma non abbiamo solo il punto croce classico ma guardate un po che bella questa gamma di colori come si possono interrompere le croci croci allungate croci incrociate mi piacciono i giochi di parole ecco guardate che bella i filati possono essere dei buoni cotoni delle ottime lane e delle lane da tappeto quindi di solito sono lana più capi perché quando poi si va a tagliare il vello per pareggiarlo si aprono bene e creano quell'effetto soffice e compatto vedete perché poi vanno tutte rifilate i tappeti punto possono essere piani col vello multicolor monocromatici come si possono realizzare le pellicce i velli nei tappeti varie tecniche direttamente a telaio possibilmente verticale perché poi un tappeto occuperebbe in breve tempo nell'avvolgimento tutta la superficie possibile offerta da un subio quindi di solito si realizzano su telai a cornice anche ridotte o su ampi telai a verticali il mio è bello grandino si può operare su entrambe le facciate lo dovrò rimontare prima o poi alcuni esempi di manufatti realizzati con tecniche di ricamo a fili contati delle borse e cuscini e poi si può utilizzare la zephyr la zephyr è una lana a due capi tendenzialmente secca bella e robusta messa a doppia è piuttosto sottile più sottile della sport e messa a doppia permettere di realizzare dei calzini belli resistenti è una delle lane che si possono appunto utilizzare e si trovano ancora in grandi matasse di solito sono matasse da 100 grammi e quindi insomma ognuno se la doppia secondo il proprio gradimento si possono creare sfumature se uno compra più matasse se li abbina per benino mi raccomando di lavorare con i gomitoli separati quando abbinate più colori perché è meno rischioso e si tende di meno a richiamare più un filato rispetto a un altro cosa che nell'avvolgimento di più filati nel medesimo gomitolo succede e poi abbiamo lunghezze strambe brutte gobbe vedete un po' di esempi diverte molto anche i bambini recamo appunto guarda che belli poi gli esempi dei colori pendenti, medaglioni, cartoncini, le mie partecipazioni di nozze con le rose c'è una che gira per casa l'ho ritrovata come si vanno tengono questi non fatti arriviamo al trapunto, al patchwork, al quilting che meraviglia, servono dei filati veramente buoni adatti al tipo di questo torno indietro invece, scusatemi parlavo di Zephyr allora, Aubusson è la città della Francia centrale, più o meno abbastanza centrale famosa per le arazzerie tessute e ad ago perfetto, per le arazzerie ad ago e ricami da tappezzeria esistono degli artigiani che tingono a mano le Zephyr meravigliose, e io con una Zephyr proveniente da Aubusson scusatemi, ho oscurato l'obiettivo realizzai questo chalet chalet, ha vissutissimo perché avrà 15 anni sto robo e la lana, ecco la qua, la Zephyr d'Aubusson vedete che ha fatto questo effetto così un po' rasta io l'adoro e questo effetto un po' così accartocciato che veste bene intorno al collo sta voluminoso è dato dalle due texture quindi dalla Zephyr inordito e da un lino finissimo dell'inificio del Canepificio Nazionale e tinto con indaco, che qua sembra grigio e invece è un blu è proprio un bel blu poi in alcuni punti ho creato il bouquet il traforo passando dal lino con dei tratteggi vedete non c'è stato un passaggio netto e secco ho eseguito dei tratteggi con ora il lino ora il Super Kid Moir i tratteggi non arrivano da cimosa a cimosa sono degli inserti che bisogna sapere gestire bene perché si possono creare dei buchi degli effetti non proprio estetici diciamo e poi anche passando da cimosa a cimosa vedete le mie curve in cimosa scusate un po' dietro guardate che tirata secca che ho dato qua ma è facile anche che abbia tirato un filo ho tirato un filo infatti perché qui c'è il gatto che è proprio un po' le spille che adopero un po' il gatto ed ecco che si creano delle sommature alternando i giri con colori differenti vedete pian piano si intensifica il blu del Kid Moir e sono arrivata sempre direttamente al Kid Moir eccolo qua che lo vedete negli spazi e questo traforo si chiama bouquet è un traforo tipico anche della biancheria da casa soprattutto della biancheria da casa e che ci permette di realizzare dei motivi delle cornici e poi va bene parleremo quando riaffronterò l'argomento tessitura ecco dall'altra estremità il traforo è più basso io realizzo sempre pezzi mai speculari non credo nella simmetria soprattutto quando realizzo le mie tele non mi piacciono le simmetrie e non le propongo ecco e quindi ritorno al librone quindi una bella zeffre da Aubusson che veniva venduta in belle matasse anche questa da 50 grammi in quel caso lì non da 100 poi e io la acquistavo da una ricamatrice francese che risiedeva a Milano e la proponeva ai suoi lavori quindi restauri di tappezzerie ricamate e arredi insomma dai paraventi in poi e poi si ritrasferì purtroppo in Francia non so perché non ne abbia coraggio di chiederlo e poi notai che dal sito indicato certi materiali non erano più reperibili purtroppo alcune mie amiche hanno quel filato arriviamo al patchwork cosa serve per realizzare il patchwork? delle buone forbici un bel cutter taglierino un bel piano di taglio agli specifici il cotone per il trapunto che non è un semplice cotone forte è un cotone straforte un pochettino più spesso che ci permette di realizzare bellissimi motivi con la tecnica del trapunto ecco come si possono creare le mascherine viene spiegato cosa servono gli spidi con la capocchia io preferisco quelli con la capocchia a fiore schiacciati e quello permette una cucitura svelta sotto la macchina da cucire insomma esistono delle tecniche sia per assemblare che per tagliare assemblare ma soprattutto per cucire a macchina a mano bisogna cucire ecco qua io il compasto non l'ho mai utilizzato ma non è che ho fatto poi tantissimo il patchwork il mio bel manufatto non so dove è andato però ho nel baule delle stoffe ho le pezze per realizzare un copriletto patchwork con delle pezze quadrate rettangolari ho già tutta la passamaneria necessaria ma è là che aspetta da tanti anni da quando ho fatto il mio corso colpo di fortuna fu questo che io già frequentavo l'associazione il tappeto parlante proposero tutta una serie di corsi quindi io frequentai il corso per la razza e tappeti con Carmen Moreno su telaio verticale già tesevo su telaio a Pettenerici già tesevo da tutte le parti diciamo anche sulle ringhiere ma avevo già frequentato i corsi le varie lezioni di storia del tappeto mi propose la direttrice dell'associazione mi propose questa collaborazione quindi l'associazione mi pagò tutto il corso e le spese che meraviglia che effetto che mi fece io che venivo da tutt'altro mondo insomma si insegnavo ma ecco a fare altro e fu una cosa bellissima perché la maestra veramente in gamba e il mio compito che cosa consisteva nell'andare in associazione un'ora prima dell'inizio del corso e dare supporto a chi era rimasto indietro chi non aveva capito alcune cose insomma poi ci arrivavo molto prima a parte perché per esigenze di metro di treni di spostamenti ma soprattutto perché mi faceva piacere stare in quell'ambiente quindi arrivavo molto molto presto e davo una mano è stato bellissimo ho conosciuto persone splendide ma veramente splendide e quindi ne ho un po' rimpianto soprattutto per la signora Lucilla che non è più tra noi ecco l'e-cutter è questo questa sorta di taglierino rotante con la borda spaziale ecco queste cose qua la riga che ha tutta una serie di punti di riferimento insomma non si può sintetizzare una tecnicità a breve tempo io vi racconto semplicemente il libro come può stuzzicarvi questo libro in tanti modi arriviamo al patchwork fantasia ecco una mia leva di tessitura inglese a Ciampino da per tre anni perché il marito militare era di posto lì era un'insegnante accreditata non so come insomma l'ha di insegnare presso degli istituti di come si chiama dei penitenziari insomma in in Inghilterra se la girava un po' tutta era bravissima e realizzava dei patchwork tridimensionali da paura era uno spettacolo aveva ricevuto un sacco di premi curiosissima e quindi lei aveva un po' staccato la spina venendo a bottega imparando a tessere ma lei faceva delle cose splendide ecco se non mi piace non sono una fanatica dell'uncinetto freeform invece il patchwork fantasia mi attrae tantissimi ecco questo pannello lo trovo incantevole e toccai in quell'associazione meravigliosa dei pannelli di etero che non ve lo sto a dire che cos'erano di meraviglie anche patchwork vedete le varie tecniche l'appliqué il ricamo insomma tutto si può mettere a disposizione di una tecnica e dell'altra le varie esperienze saper fare di patchwork è importante anche con la maglia e con l'uncinetto possono essere utili battete la mia macchina da cucire non lo so non l'ho più usata avevo perso il pedale poi l'ho trovato da un trasloco all'altro tutto si perde come si deve organizzare un lavoro quando si deve man mano aumentare il volume e cucire il resto a macchina i vari tipi di trapunto ecco sono un'innamorata del boutique francese è una sorta di imbottitura meravigliosa a file di trapunto fitte fitte che crea un sacco di ben motivi di solito i boutique sono monocromatici quindi una grande tela che copre la fodera che a sua volta copre l'imbottitura e un'altra fodera come interno e sono anche una fanatica e non non ho mai più visti di belli come tanti tanti anni fa dell'imbottito fiorentino l'imbottito fiorentino chiede una tela a volte seta bella fitta ma leggerissima quindi trasparente e con l'uso di file parallele di lana o cotone ma lana perché deve anche tenere caldo io così di lana l'avevo vista e fare quindi queste file parallele che andavano a riempire dei motivi già disegnati con il trapunto file di lana colorate ecco che si vedeva un po' come l'effetto del punto ombra solo che il punto ombra noi vediamo esterno il filo le barrettine laterali puntini laterali e il rovescio i fili che si incrociano danno colore a quel tratto dove abbiamo realizzato quelle file parallele con i vari colori scusate ma magari ecco forse se ve l'andate a cercare il punto ombra lo capite io così non è che ve l'ho spiegato benissimo insomma invece il trapunto fiorentino vuole prima un disegno e il motivo e il motivo si riempie con un'incisione da rovescio di essere molto brave perché poi slabrare il tutto non ci vuole niente si inseriscono delle gugliate di lana colorata ed ecco che in trasparenza emerge un motivo delicato a secondo del gusto di quello che si è andata a riprodurre i trapunti a me piacciono mi piacciono le trapunte le ho sempre avute le ho usate per camilla ecco come si può bloccare se non si vuole eseguire tutto una trapuntatura intorno alle varie forme geometriche ecco che i nodini possono bloccare fodera telo superiore quindi le formelle cucite e imbottitura per fare i nodini insomma serve un po' di tecnica serve il filo giusto ci sono i fili adeguati i tappeti i tappeti ecco vedete questo ulcinetto qua li ho tutti e due ho quello blu e ho l'altro che è una sorta di punzonatrice buffa ecco come si fanno i tappeti si riutilizzano come dicevamo prima per i fili contati i supporti adeguati quelle reti quei fondi si fanno a secondo dell'attrezzo utilizzato ecco che noi possiamo realizzare delle asole dei nodini il vello le passamanerie che servono per bloccare la fodera sul rovescio quindi eccole qua queste fettuccione da tappeto come si trasferiscono i disegni quando è il caso le mesh che le troviamo già tagliate e venivano vendute a pacchetti adesso non lo so a sfere ecco questi sono molti io avevo sempre amato quella pecora non l'ho mai fatta ecco qua come si utilizzano vedete tappeti tappeti fatti a trecce ecco qui lo stesso utilizzare cose che già si hanno oppure acquistare a poco prezzo dei tessuti colorati degli scampoli e crearsi il tappeto grazie a degli ottimi scampoli che devono avere più o meno lo stesso peso ecco sennò facciamo papocchi io amo questo cuscino ecco qui vedete le varie tecniche come vengono spiegate poi sicuramente ormai su youtube troverete molto e molto molto ancora però questa io credo che sia un'ottima base un ottimo punto di riferimento dovesse mai mancare la luce dovessero essere scariche le batterie dei portatili dei cellulari dovesse essere che non so in ritiro spirituale qualche montagna qualche bella isoletta qualche pianolo meraviglioso ecco poi ci sono le spiegazioni vedete che belle le pagine un po' giallite sopra non si riesce a vedere ecco lo passiamo io le adoro il tempo sulle cose mi piace mi piacciono anche i buchi io ho una ve la farò vedere ho una tovaglietta sopra la quale sono state ricamate delle ortensie ha dei buchi spaventosi mica li vado ad aggiustare non faccio neanche il restauro conservativo mi piace così ecco la tovaglietta e la uso per coprire il cestino dei panni da lavare ha dei colori che mi piacciono questa collana comprende questi titoli il libro del punto croce ce l'ho punto croce creativo ce l'avevo il libro delle cifre ricamate ce l'ho punto croce sul filo del colore ce l'ho favole filastroche non ce l'ho motivi fiori e frutti la ricamara piccolo non ce l'ho piccolo no questa ricamara non ce l'ho e questo va bene siete contenti aspetta scusate che è fruto ecco vi faccio vedere il cielo che è ancora un po' azzurro saranno quasi le 16 ho bevuto questo hotel aperto anzi sarà bello di accio ormai arrivano delle nuvolette domani mi portano la legna ho trovato il legnaiolo per strada e guai a lui se domani mattina non mi porta la legna povero lui perché poi dovrebbe ripiovere e non si può e non si può vedete che bello questo cielo non è bello il cielo marezzato adesso come vi saluto vediamo un po' perché tanto poi decide youtube come far ripartire il tutto e allora facciamo così mi fermo qua a presto a presto poi arriverò con i monotematici i cashmere i non il i cashmere i cashmere i moer i poi vedremo anche i cotoni belli i cotoni i lini va bene parleremo anche del bisso del bisso di mare e di quello che le nostre nonne e bisnonne chiamavano bisso che non era la stessa cosa a presto con la tazzina con la tazzina e il sottobicchiere di morena che bella che era morena e tanto che non vado anche un trentino mi piace il trentino a presto